E' stato il castello Svevo di Trani a fare da protagonista nella tappa finale di Before, i dialoghi prima dei dialoghi, tenutati tra le mura del castello il 9 maggio in occasione della festa dell'Europa. Ad aprire la giornata, l'intervento di Alessio Perniola e Pasquale Piscazzi, organizzatori del festival scientifico Cassano Scienza, a proposito della fisica. Siamo qui quest'oggi in questa splendida manifestazione a testimoniare un po' questa esperienza di Cassano Scienza che ha portato in Puglia una nuova iniziativa di divulgazione scientifica di altissimo livello, che già dalla prima edizione ha coinvolto personalità di grande spessore internazionale e ha coinvolto migliaia di persone. Cassano Scienza è stato un appuntamento straordinario, il primo nel sud Italia, a testimoniare come la divulgazione scientifica può legarsi a quello che è l'insegnamento, perché è stato organizzato da molti versi insieme ai soci scientifici di Cassano, come detto, e ha dato la possibilità agli studenti di toccare con mano quello che inizialmente ha un presupposto particolare, cioè quello di volere una capacità di astrazione particolare dagli studenti, cioè lo studio della fisica e di alcune altre discipline che attraverso Cassano Scienza sono state collegate, abbiamo creato un percorso che trasversalmente le ha incluse e le ha fatto toccare con mano agli studenti qualcosa che normalmente invece vedono solamente sui libri e sulle lavagne durante le spiegazioni dei docenti. Il tutto è poi proseguito con interventi da parte delle scuole. Si è presentato brevi coreografie, atti scenici e chi ha preferito esprimersi attraverso una maratona ristorata, con venti di varie poesie agganciati l'uno con l'altro per mezzo di un invadio. Per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, un libro vero, così come è di gridare nella piazza, perché sta conciutendoci nel sieno, per il bastardo che sta sento di solo, per il veniamo che casco del mondo, per la nostra memoria c'è bella vecchia, per questi signori del dolore, Ascoltiamo le parole della preside dell'Istituto Scientifico di Trani, Angela D'Annoia, che descrive il progetto e la manifestazione. La giornata di oggi è quella conclusiva di un lungo percorso, iniziato l'11 novembre, che oggi viene suggellato da questa manifestazione, qui partecipano le scuole della Rete del Leggere. Questa rete ha dato vita a una manifestazione culturale, dialoghi prima dei dialoghi. Perché i dialoghi prima dei dialoghi? Sicuramente un riferimento esplicito ai dialoghi di Trani, una manifestazione che ormai da più di un decennio si sviluppa con successo. E quindi volevamo raccogliere noi della Rete delle Scuole del Leggere la cifra dialogica, interlocutoria dei dialoghi di Trani e proporla per i nostri dialoghi. Poi ancora la prima edizione si titola Biforra, in quanto le scuole della Rete del Leggere vorrebbero intercettare, racconti, idee, progetti, forse anche le virtù che hanno anticipato o stanno anticipando il futuro. L'affascinante ed antico castello è il simbolo dei dialoghi di Trani e la sua storia ha un velo di misteriosità con il fantasma che si dice giri ancora per le sue stanze. Così, nel caldo e soleggiato pomeriggio conclusivo tenutosi al castello, ci sono loro, i ragazzi che costruiscono il futuro, da qui, dagli incontri tra scuole e idee, con l'intenzione di ripetere l'esperienza del percorso i dialoghi prima dei dialoghi, che hai riscontrato una grande approvazione da parte dei giovani, del futuro.